Buonasera a tutti e ben tornati sul mio canale, eccoci qua a fare il punto sul calciomercato della Roma perché rispetto all'ultimo aggiornamento, quindi subito dopo la partita contro il Latina ci sono novità che dobbiamo registrare, sono state presentate offerte, ci sono stati rilanci quindi insomma devo dire che c'è tante carne al fuoco, quindi perché non parlarne insieme ma prima di tutto invito ovviamente a mettere tanti like a questo video ma come fate sempre devo dire, vi ringrazio, ormai siamo lanciatissimi, abbiamo superato il milione di visualizzazioni quindi continuiamo così e poi naturalmente cosa non di secondaria importanza vi invito appunto a lasciare commenti, a condividere il video se vi fa piacere nelle varie piattaforme social e ad iscrivervi al canale gratuitamente attivando la campanella delle notifiche perché solamente in questo modo appunto sapete, semplicemente vi viene notificato quando pubblico un aggiornamento e potete andare a visualizzarlo ah diciamo che questi sono giorni importanti per la Roma perché ovviamente dopo il primo test contro il Latina l'asticella delle difficoltà verrà alzata però comunque anche quella partita non va sottovalutata se pensate che la Lazio ad esempio ha vinto solamente 3-1 contro il Trapani quindi anche quando vai ad affrontare comunque squadre di Serie C sono test interessanti perché ti possono dare delle chiavi di lettura dal punto di vista tattico in base alle scelte degli allenatori comunque si può evincere cosa manca per il completamento della Rosa e onestamente anche dalla formazione iniziale di Roma-Latina abbiamo visto comunque cosa manca cosa manca a De Rossi a partire appunto dal centroavanti perché contro il Latina la Roma nonostante i sei gol segnati ha giocato praticamente senza centroavanti quindi questa sicuramente è una priorità la Roma sta facendo molti movimenti per quel che riguarda la prima punta e chiaramente ne parleremo in maniera dettagliata in questo video però ripeto queste partite servono a dare un'idea del credo tattico del tipo di gioco che vuole portare avanti l'allenatore De Rossi è ripartito insomma dalla 4-3-3 che gli ha dato tantissima soddisfazione quando è approdato sulla panchina della Roma che ha portato quell'importante striscia di vittori e soprattutto ha portato un gioco molto convincente gioco che veniva quindi sviluppato rimanendo nel tema del centroavanti con una prima punta alla Lukaku quindi comunque la Roma nella selezione della nuova punta dovrà assolutamente tenere in considerazione questo aspetto allora ammesso e non concesso che le condizioni fisiche di Dybala sono sempre molto borderline quindi purtroppo l'altrano pensate che alla fine ha giocato poco meno della metà delle partite quindi insomma purtroppo non è un giocatore sul quale ci si può fare un grande affidamento in ottica tante partite della stagione però devo dire che comunque anche l'esperimento ovviamente emergenziale quindi che non è la regola di Dybala falso nuovo comunque di Dybala centroavanti devo dire che non mi dispiace non mi dispiace ovviamente l'interpretazione del ruolo quando non hai un attaccante che è prestante fisicamente è un pochino diversa rispetto a quella del centroavanti Boa ma devo dire che può essere una variante e quindi una variabile che a mio parere non possiamo escludere e che quindi dobbiamo prendere in considerazione cioè ci saranno dei momenti della stagione dove magari la prima punta sarà infortunata o dove magari De Rossi vorrà sorprendere gli avversari e allora in quel caso anche utilizzare un attaccante piccolino come Dybala, Baldanzi e Sharawi che lo fece all'epoca di Spalletti può risultare un'opzione interessante però ovviamente nella costruzione della rosa non si può esimere la Roma dal prendere una prima punta importante e nelle ultime ore ci sono stati dei movimenti piuttosto significativi sia in entrata che in uscita ricordiamo comunque anche che la Roma alla fine nonostante ovviamente non lo sta impiegando perché fuori rosa in realtà ancora non ha formalizzato la cessione di Carzorp è stata formalizzata la cessione di Olivares alla Letiade tra Olivares e Aguar comunque la Roma si porta a casa 18 milioni di euro puliti, netti e quindi questo sicuramente aiuterà molto nel mercato in entrata mentre Carzorp molti lo davano per fatto io ovviamente non l'ho mai dato per fatto perché sapevo che non lo era al Besiktas per 3 milioni di euro di fatto non c'è nulla tant'è vero che nelle ultime ore comunque c'è stato l'inserimento del Drasov Sport cioè Carzorp in realtà aveva chiesto alla Roma di essere ceduto nel campionato olandese e lui voleva tornare per l'ennesima volta al Feyenoord però di fatto il Feyenoord non è interessato a questa operazione non ci sono stati altri avventori dal campionato olandese cioè comunque il giocatore era stato proposto all'Ajax è stato proposto alla Z di Alckham quindi al PS Windhoven quindi come dire naturalmente è stato proposto ai club olandesi che dispongono maggiore liquidità però insomma tutti hanno risposto per semplificare il discorso no grazie quindi di fatto Carzorp è rimasta ancora sul gruppone alla Roma e sicuramente è una cessione che va formalizzata a tutti i costi quindi dopo Livares potrebbe partire un altro terzino però purtroppo nonostante sia fuori rosa la Roma non è riuscita a trovare ancora la quadra con nessun club per la cessione di Carzorp almeno non l'ha trovata nel momento in cui stiamo parlando riguardo Ebram la Roma è categorica cioè non partirà per meno di 30 milioni di euro perché la Roma ha bisogno troppo di questi soldi per fare il mercato in entrata come sapete è sfumata la cessione dell'Everton e Fredkin che hanno una partecipazione nel club ma che quindi non diventeranno gli azionisti di maggioranza ma comunque i rapporti tra i due club sono buoni l'amichevole con l'Everton è confermata e diciamo che la Roma contestualmente all'amichevole col Kosice del 22 luglio sta cercando appunto di parte che è un amichevole molto più importante di quella contro il Latina quindi si alza la sticella della difficoltà così che poi come ci sarà la partita contro l'Olimpia con San Rieti però diciamo che in questi giorni la Roma sta cercando appunto di chiudere anche per il centro avanti però comunque il discorso è il seguente per Enesdri comunque l'offerta dei turchi l'offerta del Fenerbahce è superiore a quella della Roma ovviamente il Fenerbahce ha le disponibilità economiche anche per soddisfare il ragazzo che però magari prima di dire sì ai turchi vorrebbe vedere che margini ci sono alla Roma però diciamo che la Roma purtroppo ancora non ha trovato un'intesa col Siviglia quindi se la Roma non dovesse trovare quest'intesa col Siviglia chiaramente Enesdri a quel punto tra virgolette sarebbe costretto a dire sì ai turchi diciamo De Rossi continuò a preferire un centro avanti alla Sorlot ma lì parliamo di cifre molto alte quindi la situazione resta difficile perché la Roma per il centro avanti non si vorrebbe spingere oltre i 25-30 milioni e questo va anche chiarito su un altro versante che è quello di Jonathan David che come sapete il suo club forte anche di offerte dalla Premier spara 40 al momento però è anche vero che il giocatore era in scadenza nel 2025 quindi magari se la Roma o altri club hanno pazienza possono portarselo a casa anche sui 30 milioni o forse meno per Sule sembrerebbe veramente la volata finale c'è un giocatore che piace a Tiago Motta ma è consapevole che la Juve lo debba cedere per fare cassa e diciamo la Roma al momento ha offerto 25 la Juve addirittura ne chiede 35 però diciamo che per essere realistici sui 28-30 milioni l'operazione dovrebbe chiudersi e il giocatore ha dato da tempo il suo sì alla Roma come il padre, come tutto il suo staff e tutto il suo entourage quindi come vedete sono ore caldissime nei prossimi giorni a Roma potrebbe chiudere un altro grande colpo quindi bombardate il video di like, di commenti iscrivetevi gratuitamente al canale e attivate le notifiche la campanella sta sopra grazie ancora e se il video vi è piaciuto condividetevelo dovunque a presto